FASPANGE 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 è un'associazione di promozione sociale e vuole essere uno spazio dedicato agli artisti per esporre le proprie opere senza sostenere grosse spese come invece accadrebbe se dovessero rivolgersi a qualche galleria d'arto. Per il quartiere vogliamo essere anche un'associazione che dia dei servizi come per esempio organizzare un doposcuola, una ludoteca, fare del segretariato sociale una mappatura dei servizi per sapere poi i cittadini dove si possono rivolgere se dovessero avere bisogno magari per gli anziani, per i propri figli. Spazio aperto nel quartiere Cercheremo di dare spazio alle iniziative, quelle artistiche emergenti, artistiche giovanili ci proponiamo in futuro di poter organizzare qui lezioni sulla Costituzione italiana diritti e doveri di un cittadino assorbiamo la cultura che viene da fuori non decidiamo noi cos'è valido, non valido, bello o brutto bensì cerchiamo di prendere senza giudizio con apertura massima proprio per dare spazio alle persone. grazie a tutti Grazie a tutti.